E allora buonasera, benvenuti al TG della Sette. Allora, c'era veramente da aspettarselo. Che cosa è successo? Che la tranquillità, diciamo, in casa della politica è durata nemmeno lo spazio di 24 ore. Allora, ieri ve lo ricorderete, ne abbiamo parlato, è stato un momento, come dire, delle gentilezze istituzionali. Il premier Mario Monti ha telefonato al capo dello Stato per fargli gli auguri, poi ha chiamato i presidenti di Camera e Senato, i segretari dei maggiori partiti, ha parlato con alcune personalità politiche, fra cui anche Berlusconi. E poi, che cosa è successo? È successo tutto nella notte, nella notte fra Natale e Santo Stefano. E cioè, due messaggi, due tweet, lanciati da Mario Monti che hanno creato scompiglio. Due messaggi in cui, sostanzialmente, Mario Monti afferma, basta la menti, saliamo in politica. Insomma, la salita in campo del premier dimissionario a questo punto è ufficiale. Peraltro c'è stato un piccolo giallo perché all'inizio si pensava che non erano dei Monti questi due messaggini. Poi il suo staff invece ha confermato, sì, dice, il premier si trova a casa dei familiari con i nipotini e ha lanciato questi due messaggi. Va bene, naturalmente i commenti da parte dei politici, dei vari partiti politici, non si sono fatti attendere. Allora c'è Bersani che afferma, aspettiamo comunque, aspettiamo di vedere da quale parte starà Mario Monti e se veramente sarà super partes. Mentre Berlusconi e i suoi attaccano, attaccano duramente. La politica di Monti non sarà altro che quella di tasse, quella del limo, quella di un punto percentuale in più sull'iva e quella di una nuova patrimoniale. Poi Tessuale afferma Berlusconi che oggi ha telefonato alla comunità incontro di Don Gelmini, dice, dobbiamo contrapporci a Costoro che ancora si vogliono unire a una parte politica che viene dal vecchio PC. Vedremo poi a questo punto che cosa sta facendo il nuovo centro. I centristi entrano naturalmente in fibrillazione. Insomma, vi racconteremo questa giornata politica che uno si aspettava potesse essere calma. Invece abbiamo visto quante cose, quanti avvenimenti sono accaduti. Senza scordarci però, attenzione, anche del cosiddetto terzo incomodo. Quel Beppe Grillo che appunto è in piena campagna interoelettorale, che sente l'odore, scusate il termine, del sangue e che naturalmente ne dice di tutti i colori sui partiti, soprattutto sui partiti tradizionali e non solo. Sentiremo che cosa ha detto. C'è da dire che a preoccupare in questi giorni però è, spiace dirlo o dare sempre queste notizie, ma è la crisi, la crisi politica a preoccupare e soprattutto quello che accadrà il primo gennaio. Perché? Perché c'è molta, molta preoccupazione su centinaia di migliaia di precari che a partire dal primo gennaio potrebbero perdere posto. E sono i precari sia nel comparto privato che in quello pubblico. D'altronde a certificare, lo vedremo nel nostro regionale, la crisi del Paese non ci sono soltanto i dati sui consumi che dicono che questo Natale è stato il peggiore per quanto riguarda i consumi da vent'anni a questa parte. Basta poi fare un giro per accorgersene, non c'è bisogno di certificazione, basta vedere i tanti negozi che hanno chiusi. Perché? Perché tanto la merce esposta non si vende. È la dura realtà. E infine le notizie internazionali. Beh, c'è in primo piano ancora la violenza, l'escalation di violenza in Siria perché c'è stato un bombardamento. In questo bombardamento sono morti 27 bambini. Ma veniamo alla lettura dei titoli del Tre Giornali. I tre tweet di Natale con l'annuncio della salita in politica da parte di Mario Monti sparigliano le strategie dei partiti, scatenano le polemiche, moltiplicano i follower in rete. Abbiamo salvato l'Italia dal disastro, dice Monti. Adesso va rinnovata la politica. E dal popolo della libertà arriva un attacco violentissimo all'agenda Monti. Una cura sbagliata, fatta di tasse. L'offensiva sottolinea anche il problema della terzietà di Monti. Non è più un tecnico ma un politico, dice Cicchitto. E Berlusconi strizza l'occhio e fa promesse alla Lega. Se si alleano, il vicepremier sarà del carroccio. Da Bersani giudizio sospeso. Vedremo se sarà neutrale, afferma il segretario del PD rivolto a Monti. Poi dice di rispettare la decisione, ma prende tempo. Solo quando Monti si candiderà come premier diventerà un vero avversario. Ma soprattutto deve chiarire dove si colloca. Il conto alla rovescia più amaro per migliaia di precari con i contratti in scadenza. Dal 31 dicembre potrebbero rimanere senza lavoro. L'allarme è lanciato dalla CGL che punta il dito sulla legge Fornero. Il cui obiettivo, secondo il ministro, è quello di colpire la flessibilità cattiva e premiare la buona. Da vent'anni a questa parte non si era mai visto un Natale peggiore. Lo dicono le associazioni di consumatori. Si parla di un ribasso dei consumi tra il 14 e il 20%. I soldi sono andati via con l'imo e con il mutuo. Zero per altri consumi e ieri e oggi negozi chiusi perché tanto non si vende. Strage di bambini in Siria con le bombe di regime. Sono 27 i minori uccisi, oltre 100 le vittime. Il capo della polizia diserta e punta il dito sul regime di Assad accusandolo dell'uso di armi chimiche. Spuntano intanto le prime cifre. Sono 45.000 i morti dall'inizio della rivolta. Allora, buonasera e benvenuti al Tg della Sette. Dunque, due messaggi diffusi via internet e subito campagna elettorale. Due messaggi li ha inviati via Twitter Mario Monti che così annuncia di fatto ufficialmente il suo impegno in politica. Basta la mentele, scrive il professore, rinnoviamo l'Italia, insieme saliamo in politica. I centristi che lo appoggiano entrano in fibrillazione. Monti si fa vivo a mezzanotte con due tweet dall'account senatore Monti che equivalgono ad altrettanti passi avanti nella mutazione da tecnico a competitor ingombrante della campagna elettorale. Saliamo in politica insieme, scrive autocitandosi dalla conferenza stampa di fine anno e rilanciando il sito della sua agenda manifesto. Abbiamo salvato l'Italia dal disastro, ora rinnoviamo la politica, ha twittato poco prima. Sono segnali ulteriori che il premier dimissionario nell'agone c'è e come e che ha intenzione di sperimentare tutti i media, intervista cartacea, conferenza stampa in diretta, ospitata in mezz'ora, comunicati ufficiali dal sito e ora Twitter. Nel giro di poche ore i 280 caratteri del professore Bocconiano scatenano polemiche a go-go. Il PDL è in cima alla classifica dell'indignazione ma anche il PD e Di Pietro lanciano frecciate. Per i centristi invece Monti in rete è incoraggiante, sempre più difficili i ripensamenti. Ma al di là di questa considerazione i centristi sono in fibrillazione, questa è la settimana decisiva, preoccupati dai tempi stretti, dalle firme da raccogliere in breve tempo, dalla costruzione della rete sul territorio. Per tutti i giorni circolano notizie di vertice, incontri tra Riccardi, Montezemolo, Casini, Cesa, incontri smentiti, Riccardi al mare, Monti a Milano per le feste, Montezemolo si prepara ad una breve vacanza. Ma i contatti non mancano e voci insistenti dicono che una riunione con Monti potrebbe esserci forse il 28. Comunque prima di Capodanno, assicurano fonti di governo. Il primo punto da chiarire è se fare una lista unica o più liste. La decisione è affidata a Monti ma nessuno si nasconde che al Senato fare la lista unica è quasi d'obbligo. Per le coalizioni, infatti, la soglia è del 20%, risultato non proprio a portata di mano. Diverso discorso alla Camera, dove lo sbarramento per le coalizioni è il 10. Qui Casini, per esempio, vorrebbe pesarsi con una sua lista. Tutto da discutere, così come i nomi. Gli attacchi di Berlusconi hanno messo fini nella condizione di essere difeso. Più facile che cadano i veti dei Montezemoliani su una sua candidatura. Quelli di Italia Futura, i loro nomi li hanno intanto pubblicati sul sito, con tanto di foto. Altro capitolo sono i ministri, oltre a Passer e Riccardi, quali saranno gli altri montiani eventualmente candidabili. Di sicuro nell'area di governo crescono anche le perplessità. Monti ha chiaro quanto è difficile raccogliere le firme, sussurrano. Lo vedo fare una cosa difficilissima come se fosse facilissima, osserva un vice ministro, che sottolinea soprattutto lo scoglio territoriale. Non so quanto la CISL potrà aiutare e allora con quale organizzazione Monti salirà in politica, è la domanda successiva. Le critiche da parte del PDL, a parte in realtà qualche eccezione, non si sono fatte attendere, soprattutto da parte di Silvio Berlusconi, che peraltro oggi telefonando alla comunità incontro di Don Gelmini, fra le altre cose ha detto come l'Italia stava meglio, noi eravamo la seconda economia dell'Europa. Un tweet quello di Monti che spariglia, mettendo tutti di fronte al fatto compiuto. La salita in campo è ufficiale, la minaccia per i concorrenti è resa evidente dalle reazioni più che piccate, soprattutto tra i followers del Cavaliere, tanto che l'appena fuoriuscito Cazzola si affretta a dichiarare. Sorprende la quantità di asti o invettive che arrivano dal PDL. Monti parla di baratro, ma in realtà negli ultimi 13 mesi le cose sono andate davvero peggio. Tutti i parametri sono andati all'ingiù, i fondamentali dell'economia sono stati peggiorati e adesso a leggere la sua agenda le cose andranno ancora peggio se è possibile, perché pare evidente che voglia mantenere l'Imu, aumentare l'IVA e mettere alla patrimoniale. Ma la controffensiva del PDL si appella ora anche al problema della terzietà di Monti, non più tecnico ma politico. Ci troviamo di fronte ad un paradosso che non è risolto dal fatto di parlare di discesa o di salita in campo, ma un paradosso che è un vulnus, perché il presidente Monti quando si incontrò con noi ci esclusa nel modo più assoluto che lui sarebbe sceso in politica alla fine di questa esperienza. Se ce l'avesse detto può anche darsi che noi non lo avremmo eletto. Rincara la dose Gasparri, la sua permanenza alla guida del governo ormai è un problema che deve essere valutato ai massimi livelli istituzionali. L'attacco a Monti ormai frontale e da parte di La Russa anche ironico. Su un tweet il fondatore del neonato Fratelli d'Italia riporta le parole pronunciate dal premier un anno fa. Chiamatemi pure prof, sarò per premier per poco. Mentre i suoi attaccano la salita in campo, Berlusconi prosegue nella sua strategia a tutto campo. Oggi anche con una telefonata alla festa della comunità incontro di Don Gelmini. Come nel 94 è urgente la nostra presenza in campo, dice il Cavaliere. Dobbiamo contrapporci alla sinistra e siamo determinati a chiedere la maggioranza assoluta. Berlusconi attacca senza mezzi termini l'Udc e quelli che definisce gli altri partitini che vogliono creare un centro stampella della sinistra. E prova a corteggiare la Lega. Maroni deciderà venerdì sull'alleanza con il PDL. Se vinceremo le elezioni avrò un vice premier leghista. Ma dal carroccio arriva già una controproposta di Calderoli. Berlusconi leader della coalizione, Mattremonti candidato premier. Ecco, allora, PDL, abbiamo visto le reazioni e la Lega. Nel PD invece Bersani è, come dire, attendista. Con Monti dice alcune cose sono condivisibili, altre un po' meno. Aspettiamo per vedere se Monti sarà veramente al di sopra dei reparti e con chi starà. Mentre poco fa il capogruppo del PD alla Camera, Dario Franceschini, ha scritto con Monti può nascere un polo conservatore normale al posto del berlusconismo. Nostri avversari, sì, ma nelle emergenze anche eventualmente alleati possibili. Ma sentiamo. Se Monti sale in politica, Bersani preferisce sospendere il giudizio. Il leader PD non vuole ancora considerare il Premier un serio avversario per la sua corsa a Palazzo Chigi. Lo abbiamo sostenuto nei momenti difficili. Abbiamo rispetto per Monti e la sua scelta. Aspettiamo di capire da che parte sta. Adesso aspettano di vedere con maggiore chiarezza se per Monti salire in politica significa mettersi sopra le parti o piuttosto mettersi con una parte. Vedremo. Questo andrà chiarito davanti agli elettori. Il PD aspetta da Monti una parola definitiva. Se sarà davvero il candidato Premier di una coalizione centrista, solo allora sarà in tutto e per tutto un avversario, anche se poi ci potrà essere occasione di collaborare. Ma le nostre condizioni, fa capire Bersani, che si sente vincitore in pectore. Noi siamo di gran lunga il più grande partito del paese, riformista e aperto a discutere con chi è contro Berlusconi, la Lega e i populismi, dice. Queste sono le nostre posizioni. Gli altri decidano cosa fare ed escono dalle ambiguità. Del resto anche il giudizio sull'agenda Monti è molto tranchant. Non c'è nulla di sorprendente, commenta Bersani. Ci sono cose condivisibili ed altre meno. La vera discriminante tra il nostro programma è quello di Monti, dicono dal PD, e chi paga dalla sua agenda non è chiaro, ma non saranno di certo i gruppi di interesse finanziari e le banche. Come dire che non sarà su quel terreno che il partito si spaccherà. L'uscita del giuslavorista Icchino e di quattro parlamentari ex popolari legati a Beppe Fioroni non viene vissuta come l'inizio di una valanga, anche perché nessuno nel partito crede che Matteo Renzi, corteggiato numero uno dai Montiani, farà un passo verso il professore. Dunque nessun dramma, nessun allarme. La sintesi la fa, anche lui con un tweet, Dario Franceschini. Con Monti può nascere un polo conservatore normale al posto del berlusconismo. Nostri avversari, ma nelle emergenze, anche alleanze possibili. Ecco, poco fa è intervenuto anche il leader di SEL, Niki Vendola, ha affermato Monti sta da una parte del mondo, noi siamo dalla parte del mondo del lavoro e della giustizia sociale, ricordando poi Vendola, ma in senso evidentemente critico e negativo, l'incontro a Melfi fra Monti e Marchionne. Allora, queste dunque sono le reazioni in sintesi dei partiti. Sentiamo a questo punto le opinioni di due commentatori, sono Filippo Facci di Libero e Mario Secchi, direttore del Tempo. Un cinguettio di Mario Monti ha monopolizzato il dibattito politico. La sua salita su Twitter ha cambiato lo scenario di una giornata e credo che in futuro sarà destinato a cambiare ulteriormente quella che è la campagna elettorale. Non è più un Monti tecnico, è un Monti politico. Ma adesso che siamo anche a inseguire i tweet di Monti, mi sembra che parli più del giornalismo italiano che di Monti. Il fatto è che Monti non è salito in campo, non è disceso in campo, in campo c'era e c'è rimasto. Di fatto vuole però giocare a porte chiuse e in Eurovisione. Non vuole candidarsi come tutti insieme dei partiti per essere eletto dagli italiani, ma vuole mandare avanti i partiti che lo eleggano nell'unica fase che conta, che sarebbe quella del dopo elezioni. È estremamente interessante la salita su Twitter del Presidente del Consiglio. perché con un messaggio assai semplice, cioè lamentarsi non serve, bisogna salire in politica, alla fine ha costretto tutti i partiti a commentare addirittura queste poche righe, nonché il suo programma. È una strategia di comunicazione? Credo di sì, Monti non è persona che lascia niente al caso. Ma nello stesso tempo sta piano piano svelando un Monti diverso da quello che avevamo visto nelle conferenze a Palazzo Chigi o nei summit internazionali. È un Monti più sciolto, è un Monti politico. Monti non si propone come candidato premier per una ragione non tanto è solo legata al fatto che lui vuole mantenere un'immagine superparte se non sporcarsi le mani col consenso, le campagne elettorali e queste schifezze democratiche. Ma per il fatto che ha visto sondaggi alla mano che alla fine il suo nome su una lista, sua o di altri, non farebbe tutta questa differenza. Quindi benedice o maledice delle liste altrui dopodiché si prepara comunque a essere incaricato in una situazione in cui magari non ci sia altra possibilità perché non c'è un vincitore chiaro. Bene, ed ora parliamo del cosiddetto terzo incomodo, quel Beppe Grillo lanciato ormai in piena campagna elettorale che oggi è tornato ad attaccare i partiti tradizionali e non solo. Se non sono zombie, poco ci manca. Non camminano ma ballano intorno alle sedie disponibili in Parlamento come si faceva nelle feste di una volta. A consegnare l'immagine danzante è un Grillo aggressivo come sempre ma più macabro del solito che dal suo blog osserva le manovre per conquistare uno scranno nella prossima legislatura. Sempre meno posti, scrive sempre più aspiranti con uno sguardo che va oltre i canonici 360 gradi. Ne ha per tutti, infatti, la guida del Movimento 5 Stelle ne ha per Monti, l'ex assistente di Cirino Comicino, in arte Rigor Monti se la sua volontà di rinnovare la politica per Fini e Casini, in politica fin dalla nascita per Pietro Ichino, protettore dei precari, buttatosi al centro per Bersani, alle prese come Gargamella con i puffi in fuga verso Monti per gli scambisti, nel senso di casacca, che pullulano per chi va in gruppo sotto la nuova foglia di fico sperando di strappare il biglietto della soglia minima per entrare in Parlamento neanche per le nuove comparsi attratte dal girotondo e infine per Napolitano, che ha avviato le danze con lo scioglimento delle camere e che darà l'incarico per il nuovo governo con un finale che però, avverte Grillo, potrebbe riservare una sorpresa la sepoltura definitiva di coloro che hanno affossato il paese e ora dicono di volerlo salvare un riferimento implicito ai seggi che il Movimento 5 Stelle punta a conquistare Grillo non lo ripete, ma anche lui è indaffarato per evitare a sua volta una sorpresa quella del mancato raggiungimento del numero di firme necessario per la presentazione delle liste un numero che resta al momento imprecisato 120.000, 60.000, 30.000 e sul quale, a meno di 60 giorni dalle elezioni devono ancora fare chiarezza i partiti in Parlamento Ecco, ma c'è poi un'altra grave emergenza che riguarda il nostro paese ed è quella delle carceri che sono le più affollate d'Europa ce l'ho ricordato, dobbiamo ammetterlo con sincerità Marco Pannella che è uscito da due settimane da un lungo sciopero, in realtà, della fame e della sete che proprio questa mattina è uscito per la prima volta per andare a visitare il carcere di Pistoia Sospeso il digiuno tornato fisicamente più in forma i capelli raccolti a coda Marco Pannella arriva a Pistoia nel giorno di Santo Stefano insieme alla parlamentare radicale Rita Bernardini in visita al carcere di Santa Caterina un piccolo penitenziario struttura vecchia e malata di sovraffollamento celle piene 75 posti letto per 150 detenuti il doppio della capienza prevista una realtà che i radicali denunciarono nove mesi fa con un'interrogazione parlamentare e da cui oggi riparte il tour politico di Pannella reduce da uno sciopero della fame e della sete durato due settimane e sospeso la notte scorsa ricomincio a mangiare ma sono pronto a riprendere lo sciopero se lo Stato non esce dalla flagranza criminale peggiore dello Stato fascista, nazista e totalitario comunista dice il leader radicale usando la sua retorica nell'agenda Monti nulla si dice su giustizia e carceri aggiunge e rilancia la richiesta di un'amnistia tutti dicono che noi stiamo lottando per i carcerati e i carcerati che stanno lottando come luogo della resistenza democratica e liberale per tutte e tutti gli italiani richiesta di amnistia a cui si unisce la comunità di Sant'Egidio che per il quarto anno consecutivo ha organizzato oggi un pranzo nel carcere di Regina Celi a Roma nella rotonda del penitenziario a tavola 110 detenuti in rappresentanza dell'intera comunità carceraria anche qui è emergenza sovraffollamento le carceri italiane scoppiano oltre 66.000 detenuti per 42.000 posti previsti poco più della metà sono condannati definitivi tutti gli altri in attesa di giudizio situazione esplosiva che genera scintille casi come quello di ieri nel carcere Dozza di Bologna dove una maxirissa tra detenuti extracomunitari ha rischiato di degenerare primo gennaio è una data che potrebbe essere molto molto triste per centinaia di migliaia di precari sia nel comparto pubblico che privato che a partire da quella data potrebbero perdere il loro posto di lavoro meno 5 per centinaia di migliaia di precari il conto alla rovescia è gli sgoccioli dal primo gennaio potrebbero perdere il lavoro la maggior parte dei contratti di collaborazione in essere sia nel pubblico che nel privato infatti scadrà a fine anno a lanciare l'allarme è il Nedile il sindacato dei lavoratori atipici della CGL che ha promosso la campagna capodanno 2013 non restare da solo per assistere donne e uomini che torneranno ad essere disoccupati dal primo gennaio entreranno in vigore alcune delle misure sull'occupazione previste dalla legge Fornero il cui obiettivo, a detta del ministro uscente che l'ha messa a punto è colpire la flessibilità cattiva e premiare quella buona in un primo momento cioè i nuovi contratti di accesso al lavoro dovrebbero favorire la massima flessibilità poi, col passare del tempo rendere l'impiego più stabile ma intanto molte famiglie italiane si ritroveranno un disoccupato a carico nel terzo trimestre dell'anno secondo l'ISTAT i collaboratori a progetto COCO PRO e coordinati continuativi COCOCO erano 430.000 per l'IMSS nel 2011 le persone con almeno un contratto di collaborazione nell'arco dell'anno erano circa 1.465.000 insomma per centinaia di migliaia di lavoratori non è prevista neppure la proroga di sei mesi inserita nella legge di stabilità quella cioè che permetterà ai precari della pubblica amministrazione con contratto a tempo in scadenza che abbia superato 36 mesi di rimanere al lavoro fino al 31 luglio prossimo la riforma del lavoro introduce anche l'ASPI l'assicurazione per l'impiego destinata a sostituire l'indennità per la disoccupazione involontaria e dal 2017 quella di mobilità tutelerà un numero maggiore di persone tutti i dipendenti del settore privato apprendisti compresi con importi più elevati e per tempi più lunghi e se presto per fare un bilancio delle riforme messe a punto da Fornero fa ancora discutere la sua accusa ai giovani di essere ciusi schizzinosi nella ricerca del primo impiego secondo Data Giovani di Padova che dal 2010 aspira a diventare un vero e proprio sindacato dei giovani i neassunti nel primo semestre di quest'anno sono quasi il 20% in meno rispetto allo stesso periodo del 2007 ma il loro livello di istruzione cresce di pari passo con la domanda di maggiore professionalità il calo di assunti per la prima volta pari al 46% riguarda soprattutto i meno istruiti ecco d'altronde a certificare se mai ce ne fosse bisogno che il nostro paese è in crisi arrivano anche i dati i dati che riguardano i consumi di questo Natale sono purtroppo i più bassi da 20 anni pensate a questa parte poi d'altronde basta dare un'occhiata in giro vedere le decine decine di negozi che sono chiusi non tanto perché abbiano cessato la loro attività ma perché la merce che spongono comunque in ogni caso non si vende era un'Italia diversa e il carosello ne è un simbolo tra gli anni 50 e i 70 il nostro paese scoprì il consumo che significa acquisto ma forzando il concetto nemmeno poi tanto anche partecipazione corale a un progetto di civiltà nel 1977 carosello chiude segue l'era degli spot finché i convincono ma nel 2012 chiudono invece i negozi e forzando ancora il concetto anche il crollo dei consumi e allora la partecipazione inevitabile a un progetto però di crisi le statistiche sono tutte uguali ossessivamente a ribasso autoflagellanti difficile aspettarsi qualcosa di diverso per cui inutile ricamare troppo con i numeri cercando conferma quello che sappiamo di numeri oggi ne bastano un paio 20 sono gli anni secondo il Kodakons durante i quali non si è mai visto una tale peggiore 14 è la percentuale di ribasso dei consumi secondo Feder Consumatori in questo frangente di festa ma sì sappiamo già fin qui ha retto l'alimentare e l'elettronica ma scendono anche loro e lo fanno pure i giocattoli forse perché ha ragione l'ex premier Monti a ricordarci che questo paese deve rimettersi a fare bambini peccato che i dettagli sulla successiva fornitura di un futuro minimo garantito manchino del tutto vorremmo dirvi anche che la spesa media per famiglia si è attestata per le strene sui 148 euro ma è veramente cifra relativa confrontata con i 481 euro di una pensione minima è un import enorme che diventa però una goccia se il conto si fa con quel 10% d'Italia che controlla il 50% della ricchezza nazionale per il resto la realtà vuole che la tredicesima sia evaporata con l'Imu e con le rate del mutuo si è pensato così di spingere gli italiani al consumo anche senza carosello il decreto salva Italia ha liberalizzato gli orari e la corte costituzionale non ci ha visto niente di illegittimo ieri e oggi chi voleva poteva quindi restare aperto la grande distribuzione non ci ha visto nulla di male la piccola ha fatto di testa sua risultato ecco qui serrande abbassate ma stavolta non è solo per la crisi c'è anche la tradizione e allora rimanendo in qualche modo in tema aumenteranno dal primo gennaio 2013 le tariffe postali tra poco tra pochi giorni spedire una lettera o una cartolina costerà 70 centesimi rispetto agli attuali 60 centesimi anche spedire una raccomandata costerà un po' di più 360 euro contro gli attuali 3,30 questa è una delibera della Gcom purché arrivino comunque le raccomandate ed ora le notizie in internazionale con la terribile escalation non lo avete sentito nei titoli di violenza in Siria oggi si registrano oltre 100 morti e 27 bambini uccisi in un bombardamento avvenuto nel nord del paese e ad inquietare in questi giorni anche la denuncia la denuncia di un generale capo a questo punto ex capo della polizia militare siriana che è passato con i ribelli è fuggito in Turchia e ha affermato il regime sta usando effettivamente armi chimiche Abdullaziz Al-Shalal tiene le mani sul tavolo ben ferme per tutta la durata del video resta immobile mentre legge la sua terribile denuncia l'esercito siriano ha usato i gas contro le popolazioni della regione di Oms il 24 dicembre Al-Shalal è un generale dell'esercito siriano capo della polizia militare e ha appena disertato si è rifugiato in Turchia dove ha registrato il video nel quale smentisce il ministro dell'informazione del suo paese che appena tre giorni fa aveva dichiarato che la Siria non potrebbe mai utilizzare armi chimiche contro il suo popolo nel suo messaggio Al-Shalal spiega i motivi della defezione l'esercito siriano si è trasformato in una banda che semina morte compie massacri distrugge città e villaggi ai danni del popolo che chiede la libertà se fosse vera la dichiarazione di Al-Shalal sull'uso di gas potrebbe avere effetti dirompenti solo poche settimane fa Barack Obama aveva detto che il mondo non avrebbe tollerato l'uso di armi chimiche in Siria e la stessa Russia seppur supposizioni ambigue aveva in parte condiviso si è inoltre saputo che pochi giorni fa il premier israeliano Netanyahu avrebbe segretamente incontrato il re di Giordania Abdallah per affrontare la questione degli arsenali chimici siriani l'israeliano avrebbe proposto di attaccare gli impianti di stoccaggio ma il re si sarebbe opposto considerandolo troppo pericoloso per la popolazione siriana la seconda opzione proposta da Netanyahu prevederebbe l'invio di una forza internazionale di 8.000 uomini in altre parole un'invasione di terra attorno alla tragedia siriana dunque continua a muoversi la diplomazia anche se con un movimento molto lento le parole di Al-Shalal sono arrivate sugli schermi di Al-Arabia mentre l'inviato Onubraimi lasciava il palazzo presidenziale di Damasco dopo un inutile incontro con Al-Bashar e si apprestava a volare in Russia per continuare quella che appare sempre di più una missione disperata mentre oggi nuove stragi e nuovi massacri hanno insanguinato il paese le vittime si contano a decine forse più di 100 e i bambini uccisi sarebbero 27 i morti hanno superato quota 45.000 da quando 21 mesi fa è scoppiata una guerra civile che appare infinita dovrò una pausa nel nostro telegiornale Allora è tutto per il nostro telegiornale non ci sono aggiornamenti di rilievo vi lascio a Cash Taxi e poi subito dopo a Crozza con il suo Natale nel Paese delle Meraviglie a domani Grazie a tutti